Faccia a faccia Questi video, questo video, allora se questo è il primo video ti informo che ce ne sono quasi 1000, quasi, dal 500 ai 1000, 7-800 video fatti che puoi cercare su Youtube, dove sei adesso? Giorgio Cerquetti, cosa faccio io? Giorgio Cerquetti ci metto il nome, il cognome, la faccia, io sono favorevole a quello che si chiama il web, la rete, a internet, sono favorevole a Facebook, sono favorevole a Youtube, l'unica cosa che non sono favorevole è a chi non ci mette la faccia, non ci mette il nome e il cognome, perché? Perché quello può essere un modo per attaccare, in passato ci sono stati diversi che hanno fatto dei video contro di me mettendo dei nomi, uno addirittura aveva usato il mio nome, aveva usato Giorgio Cerquetti contro Giorgio Cerquetti, no? Qualcuno ha creduto a questi video contro di me? Forse, sì, qualcuno ci ha creduto, perché qualcuno mi ha detto, ah ma hai visto cosa hanno detto di te? Sì, dipende da te crederci o meno, io ci metto la faccia, anche tu ci stai mettendo la faccia dall'altra parte, se mi scrivi un commento io rispondo, lo leggo, segnalo che l'ho letto. Sarebbe bello se tutti ci mettessero la faccia, se tutti mettessero il nome, il cognome e la faccia, così parliamo in modo onesto, leale, chiaro, anche disinteressato. Se invece c'è l'idea di attaccare, che poi gli attacchi che ho ricevuto in passato da persone che usavano dei nomi addirittura in sanscrito, nomi indiani, era sul fatto che loro erano convinti di avere capito meglio di me la filosofia, lo yoga, eh beati loro. E' divertente perché ho ricevuto attacchi dove da una parte mi accusava qualcuno che si definiva devoto o credente, ecco anche la parola credente è una parola così, accusavano me di avere rapporti sessuali con ogni donna che incontro, non è successo, no, non è successo no, ho avuto rapporti sessuali ma non con tutte le donne che incontro e dall'altra qualcuno mi ha accusato che io non riesco ad avere rapporti sessuali, non ho rapporti sessuali e che quindi sono triste, sono svantaggiato, handicappato. Qualcuno mi ha detto addirittura ma il tuo che yoga è se tu sei andato all'ospedale? Sì ma sono anche uscito, sono andato, sono uscito, sono andato in coma nel libro Incontro con la Chiara Luce, il grande viaggio di un'altra ritorno dal di là, parlo, io sono andato in coma, entrato in questa dimensione chiamata coma, che è una dimensione che la scienza occidentale sta studiando da poco, ancora non hanno dei parametri di come delle persone nel coma incontrano altri esseri, parlano, ricevono informazioni, vedono, poi rientrano e chiaramente il messaggio che viene dato a questi esseri umani in coma, tu non sei pronto per stare qua, torna là, cioè vengono un po' rimandati indietro, rimandati indietro è un linguaggio, vengono stimolati, invitati a tornare a concludere la loro esperienza umana e la maggior parte di quelli che rientrano, che tornano, che riprendono a parlare, così, si comportano meglio, quindi il coma non è un'esperienza completamente negativa, soprattutto per chi torna, a me è successo tre volte, tre volte, nel 1992 ero in America, altre due volte in Italia, nel 2016 e 2019, adesso siamo nel 2021, sto bene, quindi questi attacchi però non ci mettono la faccia, non ci mettono la faccia, oppure che cosa è successo? Che da quando c'è internet, ho parlato anche con dei magistrati, degli avvocati e polizia postale, non stanno più dietro agli attacchi, agli insulti, alle ingiurie, le chiamano loro, su internet, altrimenti sarebbero milioni di processi, milioni, a meno che non vedano un po' di gravità, un magistrato mi ha risposto dicendo, ma se tu non ci dici chi è il mandato, tu devi scoprirlo, perché cosa succede? Che se io faccio un video su YouTube e attacco, devo dare i dati a YouTube, se io faccio un attacco su Facebook e attacco devo dare un nome, un cognome, quindi il controllo dovrebbe essere all'origine, cioè chi ha accesso a uno strumento molto forte deve metterci la faccia, la voce, il nome e il cognome e se non ha niente da nascondere può criticare, può dare un giudizio anche negativo della vita di qualcun altro, di un individuo, di un gruppo, ma perché nascondersi dietro una sigla, dietro l'anonimato? ci sono molti che vivono così, che si nascondono dietro l'anonimato, non che fanno del bene in modo anonimo, ci sono anche quelli che fanno del bene ma non vogliono apparire, quindi se questi attaccano, come dire, sparano e non vogliono apparire, offendi, offendi qualcosa rimarrà, attacca, attacca qualcosa rimarrà e qualcuno mi dice, ah hai visto cosa dicono? e io dico, e tu cosa dici? No ma loro dicono, ma tu cosa dici? Quindi grazie per averci messo tu adesso la faccia, io ci sto mettendo la faccia, ce l'ho sempre messa, non è che non ho mai fatto errori, ma non ho mai fatto errori volontariamente e a quello che mi risulta finora non ho causato dolore e sofferenza ad altre entità di denti, l'unica volta che l'ho fatto involontariamente è fino a 14 anni che mi davano da mangiare la carne e il pesce, io non li volevo, mi hanno quasi obbligato, poi a un certo punto io ho detto finito, basta, io gli animali morti non li voglio più mangiare, mi hanno detto che ero strano, vabbè, adesso è arrivato a 75 anni e sono strano ma contento, però per i primi 14 anni non è stata semplice e questo anche mi fa riflettere sul fatto della reincarnazione, non mi conviene rinascere, perché vorrei rinascere in una famiglia, qualcuno dice, ah uno sceglie i genitori, quando lasciamo questo corpo e quindi lasciamo anche questa faccia, questo nome, questo cognome, sono i ricordi, le tracce mentali che ci portano in una direzione o nell'altra, per me l'esperienza umana, su questo pianeta, di questo sistema solare, si conclude adesso, cioè in questa esperienza, Giorgio è il mio ultimo nome, Cerquetti è il mio ultimo cognome, la faccia che ho adesso è chiaro che è anche segnata un po' dagli anni, perché gli anni passano, no? Però sono contento, sono sereno e ti consiglio, mettici sempre la tua faccia, il tuo nome, il cognome, qualunque cosa dici, qualunque cosa fai, perché? Perché così non ti confondi, non crei ombre, non crei maschere, non crei separazione, scegli chi vuoi essere e se capisci che hai fatto un errore, trasforma l'errore in un'esperienza conoscitiva, io ci ho messo la faccia, tu ci hai messo la faccia, grazie, metti sempre la tua faccia, metti sempre te stesso, sii luce, sii chiara luce, non è che noi potenzialmente siamo esseri divini, siamo esseri divini in un momento di amnesia, siamo esseri spirituali in un momento di perdita della memoria, è come quando dormiamo, possiamo sognare di camminare ma stiamo fermi, quindi noi possiamo credere di essere la faccia che vediamo allo specchio, il nome e il cognome, ma è solo un modo per definire, per capire, per conoscerci, ma noi non siamo solo questo corpo e siamo qualcosa oltre il nome, oltre il cognome e oltre la faccia.